Artisti, artigiani, fotografi, designer, collezionisti e dobbisti si confronteranno in una sorta di expo e spazio condiviso. Si sono infatti aperte le porte di Camere Civico 15, la nuova galleria d'artigianato e design che ha trovato il suo spazio nelle magnifiche sale di Palazzo Chianini Vincenzi di Via Cesalpino ad Arezzo. Questa esigenza nasceva un po' dall'esperienza avuta al Mercato delle Pulci, soprattutto nel padiglione vintage and made dove avevamo incontrato molti artigiani, molti artisti e abbiamo pensato di fare una sorta di incubatore creativo il cui filo conduttore fosse il design e il design accomuna tantissime arti e mestieri diversi e soprattutto noi italiani siamo maestri in questo. Camera Civico 15, nata da una costola del Mercatino delle Pulci, ha aperto con una tre giorni di Nostra Mercato pensata per la Fiera Antiquaria ma che proseguirà come officina negli altri giorni. Tutto il mese abbiamo qui corsi, incontri, esposizioni. Poi durante la Fiera Antiquaria facciamo il market che vede la partecipazione di più persone però ci aiuta anche a far conoscere il posto e a far incontrare saperi, esperienze diverse e speriamo che nascano da qui tante collaborazioni.